Il più grande complesso termale d'Europa messo in ginocchio dall'emergenza Covid-19 e il sindaco di Abano si allinea e rilancia le richieste avanzate al governo dagli assessori regionali. Un appello corale mirato ad ottenere provvedimenti specifici per il comparto delle imprese termali fiore all'occhiello del turismo padovano che fanno i conti con le cancellazioni arrivate e causa lockdown nel cuore dell'alta stagione. Noi con metà agosto avremo gli alberghi aperti ma naturalmente con un flusso di turisti soprattutto stranieri che sarà molto molto basso abbiamo qualcosa di più di aspettativa per i turisti italiani. La particolarità è legata al fatto che sono terminati gli ammortizzatori sociali per i lavoratori quindi la prima cosa da fare, credo l'abbiamo già espressa anche noi al governo è quella di prorogare la parte dell'integrazione salariale per i lavoratori del comparto terme. La partita della ripresa autunnale si gioca sul fronte dell'eccellenza. Abano vanta un brevetto europeo unico per quanto riguarda l'efficacia della cura fangoterapica. Diciamo che l'autunno è un momento in cui potremmo vedere qualche numero in più rispetto ai mesi di giugno e luglio. Infatti i prossimi due mesi saranno decisivi anche per capire quanto il nostro territorio tiene e quanto richiama le persone che già lo conoscono. E per la promozione si lavora anche sul fronte sportivo. All'Orizzonte Cortina 2026 un'occasione di rilancio del territorio pronto ad ospitare gli atleti che si preparano per la competizione.